Al comando delle operazioni scatta Oracle Trebb nei confronti di Nume d'Alfa, poi c'è La Corugna, ancora Nablus, poi Olimpica Ors, in avanti Oracle Trebb che controlla la situazione in avanti, l'errore in Nume d'Alfa in seconda posizione, così si sistema il numero 3 di La Corugna, quindi c'è Nablus, ancora Olimpica Ors, poi gli altri con Oracle Trebb che controlla la situazione nei confronti di La Corugna, poi Nablus, ancora il numero 6 di Galad Ram, cavalli che stanno percorrere la penultima piegata, in avanti è sempre Oracle Trebb, mezza ruota di Olimpica Ors ai danni di Galad Ram, si scopre Olimpica Ors, cerca l'aggancio in avanti, intanto Oracle Trebb che controlla, c'è poi Nablus che segue in terza, a largo si è scoperta Olimpica Ors, quindi Oracle Trebb in avanti, Oracle Trebb, ancora La Corugna, poi c'è Nablus, ancora Olimpica Ors, quindi Galad Ram, ancora Olla di Azzurra che prova a venire via in terza, in avanti è Oracle Trebb, Oracle Trebb che controlla, ancora La Corugna, poi c'è Olla di Azzurra che viene via forte sulla Olimpica Ors, quindi in avanti è Oracle Trebb che prova a scappare via da La Corugna, poi Olla di Azzurra che ci prova a largo, quindi Oracle Trebb, ancora Olla di Azzurra a largo di La Corugna, quindi Oracle Trebb, Olla di Azzurra che ci prova e ci crede a largo di Oracle Trebb, Oracle Trebb che cerca di sfuggire, Olla di Azzurra che si presenta a largo, Oracle Trebb, Olla di Azzurra a battute finali, Oracle Trebb che viene a vincere facilmente nei confronti del numero 7 e del numero 3, vittoria di Oracle Trebb, da un capo all'altro vince questa corsa. Grazie. Grazie. Grazie.